allora buongiorno da italiazzurro 4 victor quebec sierra vinco quasi sempre è il quasi che mi frega considerato che facciamo attivazione pota e non c'è bisogno di diventare mati a camminare considerato che qui ci sono le panchine c'è il posto per mettere il trattore una bellissima giornata stazione la faccio qua dunque buonasera poi segue il video solo che volevo fare un incipit una premessa al video di questa attivazione pota stavo buttando giù stavo inserendo il log sul sito non ero neanche tanto intenzionato a fare il video perché veramente mi hanno fatto gerare i coglioni allora abbiamo un'emergenza per peste suina africana asiatica ok e c'è hanno introdotto un sacco di limitazioni per l'attività al di fuori dei sentieri nei boschi nelle aree individuali e due solerti agenti di guardie ecologiche volontarie mi hanno avuto i campasesi pieno della legalità io ho continuato la mia attività tranquillamente però sono quelle cose che ti rovinano la giornata mi dispiace perché sono riuscito che è difficile a collegare Giovanni che è quel faccione là quello quello la di qua quel faccione là è in 40 metri proprio a pelo a pelo poi volevo fare un confronto fra l'antenna con ballon 1 a 1 in aria e ballon 1 a 1 su nucleo in ferrite e non ce l'ho fatta come dicevo era in dubbio se fare il video perché insomma era iniziata bene la giornata ma poi sono riusciti a rovinarmela però mi dispiace perché io ho collegato e magari qualcuno ha piacere ad ascoltare come come lo ricevevo in modo obiettivo oggettivo e allora ho detto lo facciamo bene e quindi secondo me mi toccherà fare l'attività pota e sota in modalità stealth andora in poi tenendomi ben lontano dai sentieri perché in questo caso ero proprio praticamente sulla strada il grosso vantaggio del pota è che qualsiasi punto del parco dell'aria protetta ti ti puoi posizionare e questo mi veniva molto comodo c'erano addirittura i tavolini e una figata e c'era anche il posto dove ficare il pallo dell'antenna e amen andremo in modalità stealth come facevo un po di tempo fa durante l'emergenza covid abbiamo fatto pratica e continuiamo quindi il video breve perché pochi queste ho una quindicina ma l'ultimo mi ha fatto molto piacere e mi dispiace che non ho il video che avevo già spento 73 da italia azzurro 4 victor quebec sierra vinco quasi sempre è il quasi che mi parecato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ho la gomma a piuma Il mitico G106 Vediamo se mi fa cambiare idea No, non piuma No Batteria Prima l'antenna Sempre Ok Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Vediamo un po' Sì Alessandro Buongiorno 659 Italia November 3 X-Ray Sierra Vittoria Aguar La Gorai Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Alessandro Buongiorno 59 Due punti per il diploma La Gorai Roger Italia Zulu 4 Portate le QRP avanti Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portate le QRP Referenza Pota Italia 1850 QSL Sì QSL Soltanto Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Sicu Pota Eco Alfa 1 Kilo Papa Eco Alfa 1 Kilo Papa 59 59 QSL Ok Grazie 359 55 Il tuo riporto Molte grazie Buona continuazione Ciao Victor Quebec Sierra Sicu Pota Delta Bravo Over Delta Bravo 8 Alpha Papa Golf Roger Delta Bravo 8 Alpha Papa Golf 59 Reference Pota Italy 1850 QSL Roger Roger You're also 509 You have many things Good luck 73 And 44 73 Good weekend QSL Delta Delta 4 Uniform Sierra Papa Delta 4 Uniform Sierra 59 QSL Roger Thank you My friend Good weekend Bye bye Sicu Pota Sicu Pota Sicu Pota Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Sicu Pota Eco Charlie 1 Romeo Romeo X-Ray Eco Charlie 1 Over Eco Charlie 1 Romeo Del Romeo X-Ray Eco Charlie 1 Romeo X-Ray Is Correct Roger 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 Ecco Charlie 1 Romeo 5 9 5 9 Your Report Reference Pota Italy 1 8 5 0 QSL 73 73 73 Francia 5 Papa Ienchi Italia Francia 5 Papa Ienchi Italia Over Grazie 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 Alessandro Francia 5 Papa Ienchi Italia 5 5 55 QS Alessandro QSL QSL 5 9 Il tuo rapporto 5 9 Grazie Buona giornata Grazie 5 9 Ciao Eco Alpha 4 Hotel Romeo X-Ray Eco Alpha 4 Hotel Romeo X-Ray Over Eco Alpha 4 Hotel Romeo X-Ray Over 5 9 5 9 QSL 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 Thank you My friend Bye Bye 73 Hotel Lima Echo Hotel Lima Echo Avanti Roger Roger Alessandro Italia Whisky Zero Hotel Lima Echo 5 5 5 Roger Italia Whisky Zero Hotel Lima Echo 5 9 Il tuo rapporto 5 9 Grazie Buona giornata Ciao Alessandro Sicupota 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 Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Sicupota Eco Alpha 2 Eco Romeo Tango Eco Alpha 2 Eco Romeo Tango 59 5 9 5 9 5 9 5 7 3 Buona Pop Up Thank you To you My friend Good weekend Bye Bye Roger Eco Eco Alpha 4 Tango Lima 5 9 Quest 73 Grazie Buon fine settimana Ciao Eco Alpha 2 Eco Zulu 5 5 9 5 9 Q Salve.